ciao amici sono Giorgio Rocca dalle piste di Livigno oggi vi parlerò di sicurezza ciao sembra una vecchia cosa però casco ben allacciato stringiamo bene la fettuccia casco ok e scarponi bene allacciati chiusi se siete usciti di casa e l'avete fatto a casa ricontrollate ok vai eccoci questo è un cartello che mi impone di rallentare livello top o livello medio basso tutti dobbiamo rallentare perché vuol dire che c'è un pericolo perché qui arriva una pista da sinistra e c'è un incrocio come in tutti gli incroci anche stradali bisogna rallentare qui no dosso noi siamo sotto il dosso il prossimo che arriva ci ammazza via entrata la seggiovia pericoloso sono i cartelli ma dovremmo saperlo mancano 20 metri andiamo piano rallentiamo molto ok questo invece c'è scritto grande e chiaro fine dalla pista e soprattutto messo prima delle seggiovie dall'imbocchi delle seggiovie e quindi anche lì oltre che all'incrocio bisogna veramente rallentare grazie